Terza corsa, quindi premio Top and Over, una prova per tre anni, non vincitori 28.000 euro in carriera e di 4.000 dallo scorso primo di novembre. 6 alla via, all'1 Ubi Jet, Roberto Vecchione, al 2 Urbano Ferma, Afrin Smitra, al 3 Ubi Mayor SM, Gian Paolo Minucci, al 4 Ultimo San, Mario Minopoli Junior, al 5 Ucci, Charles SM, Giorgio Alessandro Junior, al 6 Unsogno Mail, Gaetano Di Nardo. Sotto la pari la quota di Ubi Mayor SM quando mancano 250 metri allo stacco e i cavalli stanno completando l'allineamento con Ubi Jet che arriva qualche metro dopo sotto l'ala della macchina. Nel frattempo si ritrae un sogno mail, la macchina che va per lasciare i concorrenti e allo stacco è veloce con il numero 5 Ucci, Charles SM che si porta a condurre nei confronti di Urbano Ferma e poi ancora Ultimo San, mentre l'errore intanto per Ultimo San e quindi rimane in terza posizione alla corda Ubi Jet a precedere Ubi Mayor SM. Si arriva così al completamento del primo quarto di gara che va via in 29 con la mossa da parte di Urbano Ferma che va all'attacco di Ucci, Charles e lo sopravanza a metà della dirittura per arrivare così da leader al paletto dei 600 percorsi in un veloce 43,6 a mosso anche Ubi Mayor SM che ora è al sediolo di Ucci, Charles quando si va ad affrontare la piegata di destra con Urbano leader Ucci, Charles secondo poi Ubi Mayor quindi ancora Ubi Jet a chiudere un sogno mail così di fronte con sempre in controllo per il momento Urbano ferme Ucci, Charles che ha di fuori Ubi Mayor il chilometro che viene passato in un 1,14 abbastanza scarso con Ubi Mayor che attacca a fondo Urbano, poi si fa vedere anche Ubi Jet, due pariglia completamente alla piegata, sbaglia Ubi Jet e così si elimina Urbano che per il momento ha respinto Ubi Mayor, di dentro Ucci, Charles poi più indietro un sogno mail, Ubi Mayor che per il momento non guadagna è Urbano così ancora un paio di lunghezze ma ora rinnova gli attacchi Ubi Mayor SM nei confronti di Urbano, Ubi Mayor che sta guadagnando Ubi Mayor che va su Urbano ferme, ne ho sopravanza nei pressi del palo, Ubi Mayor SM che viene a concludere nei confronti di Urbano ferme ha dovuto attendere addirittura per poter far tenere al suo callo l'assetto migliore Gian Paolo Minuccia quando si è disteso Ubi Mayor SM ha avuto comunque ragione di un volitivo Urbano ferme ed è riuscito così a portare a casa il successo 1,57 e mezzo il tempo totale che significa nell'ordine dell'1,13 e 2,13 e 3 la media al chilometro per un Ubi Mayor SM è rivisto sicuramente nei suoi momenti migliori il 3 al primo posto sul palo, ecco nelle immagini il 2 di Urbano ferme al secondo, il 5 di UC Charles SM al terzo per questa terza corsa Grazie! Grazie!